Buongiorno ragazzi bentornati al canale come sempre giù di muscolare vita ho preso in mano questa telecamera perché volevo ringraziarvi a tutti siamo arrivati a 10.600 iscritti qualcosa così quanti siamo ragazzi quindi volevo semplicemente ringraziarvi un sacco e ovviamente fare un vlog così che tutti i nuovi arrivati potete capire esattamente come sono anche di personalità non ci sono solo il fitness in realtà sono un ingegnere e in questo momento sono facendo il master in ingegneria qui a Bath come potete vedere sono seduto sulla finestra sono le 8 e mezza del mattino adesso uscirò per andare all'università per prendere il bus e detto questo rilassatevi sedetevi comodi buttateci un like se vi piace questo video e iniziamo il vlog come detto sono le 8 e mezza io alle 9 e un quarto ho la lecture di project management quindi praticamente un corso in realtà di business non di ingegneria ma il master che sto facendo è manufacturing e management per cui ho entrambe le cose sia delle classi di ingegneria che sono tecniche e bellissime e matematica eccetera eccetera sia delle classi più di business che sono un po' più di social sciences meno intense e questa qui è la mia casa e ragazzi vi faccio un piccolo regalino per i 10.000 iscritti vi faccio conoscere la mia conquilina tessa ciao ragazzi lei è tessa ragazzi è mia conquilina spagnola è simpaticissima ci divertiamo un sacco la sera adesso io voglio dire qualcosa in italiano vabbè sta imparando l'italiano piano piano quando ne sa meglio prenderei il vlog e inizio a parlare lei comunque adesso stiamo andando all'università vedo il bus lì in fondo abbiamo entrambi una lecture di 915 e niente ci vediamo dopo arrivati dall'università appena finita la classe di project management e ragazzi sono appena passato per la banca ho fatto l'ultimo pagamento per le magliette quindi speriamo mi arrivano quelle finali poi ho fatto un'ora un'altra lecture questa volta di manufacturing e adesso due ore di group work ci vediamo dopo sono le 6 io sono nel dipartimento di ingegneria ho appena finito la lecture e adesso faccio un altro po' di lavoro ci vediamo dopo sono le 7 e mezza io mi faccio una breve pausa sono ancora qui nel dipartimento ingegneria a fare un po' di caldo io ve l'avevo detto questi vlog lavoro e basta sono le 10 di sera io finalmente ho finito qua di lavorare a call at night come dicono gli inglesi ora scendo giù devo prendere il bus tra mezz'oretta starò a casa sono le 10 e 30 e sono tornato in città come vedete che c'è l'habi la cattedrale dietro le mie spalle questa la devo vloggare prima volta che sono stato fermato in strada non so chi sia come ti chiami però grazie che mi hai fermato mi ha fatto veramente tanto piacere vado a casa eccoci che rientriamo a casa ed eccoci tornati a casa ragazzi come avete visto vi ho provato a far vedere tutta la mia giornata all'università però avete visto mi sveglio presto la mattina torno tardi la sera per questo anche non faccio così tanti vlog non c'è niente di appassionante sto lavorando un sacco per ingegneria per il corso quindi sto tutta la giornata all'università a studiare purtroppo questa è la verità comunque volevo lasciarvi con un paio di cose la prima cosa sono appena stato fermato da un ragazzo come avete visto nel clip precedente veramente non abbiate paura di venirmi a dire ciao se mi venite in strada è stata la prima volta che mi hanno fermato è veramente scioccato veramente una gioia pazzesca quindi sono contento se voi mi fermate se mi vedete in giro facciamo una foto insieme mi dite la vostra storia mi fa sempre molto piacere seconda cosa per tutti i nuovi iscritti se non lo sapete già io ho una pagina instagram in questo preciso istante sto facendo un giveaway quindi do 5 dei miei programmi gratuiti per ringraziarvi dei 10.000 iscritti qui su youtube quindi per partecipare basta che mi seguite anche su instagram penso di aver detto tutto adesso sono le 11 devo ancora mangiare farmi la doccia editare questo video e uploadarlo per voi e ovviamente domani alle 7 starò in palestra fresco a allenarmi quindi ovviamente questa è la mia vita non è così facile come sembra per questo motivo anche faccio fatica a rispondere a volte ai messaggi eccetera eccetera ma ci provo a bilanciare il tutto perché l'importante comunque è avere un bilancio di tutte queste cose che vi piacciono nella vita questo è quello che sto provando a fare io spero vi sia piaciuto questo vlog magari adesso ho una o due settimane veramente di fuoco in cui proverò comunque a mettere fuori dei video ma sarà veramente tosta perché ho tantissimi corso e devo praticamente consegnare tanti progetti in queste prossime due settimane però dopodiché dovrei stare un pochino più rilassato e riprenderò a fare tanti vlog per voi mi raccomando se vi è piaciuto questo video fatemelo sapere nei commenti buttateci un like iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto fatemi sapere se siete nuovi e volete vedere qualche video in particolare datemi un po' di ispirazione scusate se adesso sono stanchissimo ma veramente dopo una giornata intera che ci posso fare io ora vado a riposarmi noi ci vediamo in un video molto presto ciao